Per capire l'arte urbana dobbiamo in realtà spostarci di tempo e di spazio. Dobbiamo arrivare negli Stati Uniti e nella fattispecie a New York alla fine degli anni 60. Qui infatti nasce una cultura più che un genere artistico. È la cultura, è la socialità dell'hip hop. L'hip hop è fatto di quattro discipline fondamentalmente. DJing, che sono i DJ che mettono i dischi, b-boying, che sono i b-boys e le b-girls che danzano per terra questa nuova danza che è la breakdance. MCing, gli MC sono coloro che cantano, prendono in mano il microfono e rappano. E il graffiti writing o anche solo writing. Il writing all'inizio a New York non è altro che prendere in mano una bomboletta assolutamente non tecnica e scrivere il proprio pseudonimo, accompagnato di solito da un numero che è il numero del quartiere o del civico della casa, sui muri della città. Non soltanto sui muri per la verità, anche sui treni. Questo perché il treno è un supporto che si muove all'interno della città e quindi scrivendo il proprio nome su un treno il proprio nome si muove in città e tutti lo vengono a conoscere. Da una scritta molto semplice, che è la TAG, si arriva nel tempo a lavorare sulle lettere in senso estetico e questo quindi porta, attraverso l'attività del lettering, a far esplodere la lettera, lettera e numero, che diventa coloratissima, tridimensionale e riempie un'intera carrozza di un treno se non l'intero treno. Siamo verso gli anni 70-80 del 900 e New York, soprattutto la metropolitana di New York, è bombardata letteralmente di graffiti. Con grande ritardo tutto questo che nasce negli Stati Uniti appunto alla fine degli anni 60 arriva in Italia a metà anni 80. Qui quello che succede è più o meno lo stesso che succede negli Stati Uniti, cioè il graffiti writing arriva in città e si posiziona sia all'interno dei centri sociali, dove però non va molto d'accordo con quella che è l'intento forse più politico e sociale dei centri sociali, quindi si sposta su treni e metropolitane. Gli anni 90 sono anni in cui ancora la metropolitana è piena zeppa di graffiti e se fino a quel momento l'istituzione pubblica si era un po' disinteressata del movimento, quando comincia a esserci grande quantità di produzione, l'istituzione mangia la foglia e dice qui c'è un problema. E la metà degli anni 90 sono anni in cui il movimento subisce una profonda battuta di arresto in Italia, la produzione diminuisce. Nel frattempo sta succedendo qualcosa, in Europa si fa strada una nuova sensibilità sociale, culturale, che porta a voler comunicare qualcosa sui muri della città, non solo un nome, non solo un numero. Questa nuova sensibilità nasce appunto in Europa, nelle grandi capitali, Parigi, Londra, Berlino, sul finire degli anni 90 e prende un nuovo nome, è il nome della street art. La street art arriva in Italia con meno scarto temporale rispetto ai graffiti, quindi all'inizio degli anni 2000 e di diverso rispetto al graffiti writing a che comunica attraverso le figure in modo molto chiaro. La street art piace, piace ai privati e piace al pubblico, al punto che qualcuno, anche forse un po' scaltramente, comincia a capire che la street art può essere rivendibile e quindi cominciano a essere realizzate le prime mostre sulla street art, organizzate prima dai privati e poi dal pubblico e anche il pubblico, quello stesso pubblico che magari vent'anni prima si arrabbiava molto con chi produceva graffiti writing, adesso è grandemente accondiscendente verso la street art. Qual è la situazione oggi? La situazione viaggia su due binari paralleli. Da una parte c'è la spontaneità, che è proprio tanto del graffiti writing quanto della street art. Dall'altra parte c'è l'inquadramento di queste esperienze artistiche all'interno di sistemi che sono invece più regolati da delle leggi pubbliche o private. L'ultimo elemento che conclude questo percorso o che magari lo apre a dei nuovi scenari, questo lo scopriremo forse tra un po' di tempo, è il muralismo urbano contemporaneo. Anche il muralismo urbano contemporaneo nasce in maniera spontanea, quindi illegale, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. Oggi invece viene utilizzato moltissimo dalle istituzioni, soprattutto italiane, per veicolare messaggi legati non tanto al pubblico, perché il pubblico dà in concessione i muri, quanto ai privati, perché gran parte del muralismo urbano contemporaneo di oggi non fa altro che prestare il fianco alla pubblicità. Quando parliamo di muralismo urbano contemporaneo ci rifacciamo in realtà a un'esperienza artistica molto nota, non soltanto all'Europa ma anche soprattutto direi agli Stati Uniti, rifacendoci ovviamente all'esperienza di inizi novecento dei muralisti messicani, Siqueiro, Sorosco. Cosa cambia oggi? Oggi cambia che tutto questo viene prodotto all'interno del contesto urbano con un intento un po' diverso rispetto a quelle delle origini. Il muralismo, dicevamo, nasce anche lui spontaneo e tutt'oggi ci sono degli artisti che continuano a produrre il muralismo urbano in maniera spontanea. Uno su tutti è Blu, molti di voi lo conosceranno, molti di noi lo conosciamo per via del fatto che Blu produce in maniera assolutamente autonoma e quindi non commissionata opere di grandi dimensioni. Tutto il muralismo urbano contemporaneo è negativo? Assolutamente no. Continuano a esserci esperienze o spontanee o che prevedono invece un altro tipo di committenze di commissione che è la committenza civica. Ci sono grandi esempi in giro per l'Italia in cui il muralismo urbano contemporaneo è stato utilizzato per veicolare dei messaggi specificatamente site specific, quindi legati al territorio, all'interno magari di contesti più ampi dove il muralismo non era altro che uno strumento per, diciamo, riqualificare, in questo caso mi viene da dire riqualificare in senso positivo un quartiere attraverso un più ampio progetto sociale, culturale, dove gli artisti portavano i loro contenuti ma non erano certo i soli. Il rischio vero nel muralismo contemporaneo oggi con una committenza civica è che la pubblica amministrazione utilizzi questo strumento come pecetta colorata per sistemare dei problemi a cui la politica in realtà non riesce tanto a mettere mano. Quello che secondo me invece sarebbe da fare è un'attività sulla base dell'esperienza mi viene da dire per esempio di Napoli, di Parco dei Murales di Ponticelli. In quel caso c'è stato un lungo percorso progettuale collaborato tra le istituzioni e i professionisti del settore, quindi educatori, psicologi, che hanno lavorato insieme al quartiere e insieme agli artisti hanno realizzato sui muri del Parco dei Murales di Ponticelli, macro temi che interessano la comunità di Ponticelli. Ecco, in quel caso secondo me il muralismo contemporaneo, urbano contemporaneo, può essere veramente veicolo di messaggi. Tra i vari progetti che sono stati portati avanti nel tempo, uno tra tutti sicuramente il PicTurin, che è stato in realtà il primo che ha portato le istituzioni e la comunità a dialogare, realizzando in città una grandissima quantità di opere di cui ancora oggi Torino beneficia, portando quindi anche turismo, se vogliamo, e un certo tipo di indotto. Un altro progetto molto interessante che l'istituzione torinese ha portato avanti in collaborazione con gli artisti e grazie al supporto dei brand è il progetto sui goal dell'ONU, supportato economicamente da Lavazza. In quel caso sono stati fatti un grande quantitativo di interventi in giro per Torino, chiamando artisti locali a realizzare quelli che sono i goal dell'ONU. Questo è assolutamente un caso positivo di collaborazione tra la comunità artistica da una parte e le istituzioni dall'altra, con come terzo player il brand. Il brand non deve in alcun modo intervenire in maniera violenta nella produzione, non deve imporre dall'alto le sue volontà. Non è un caso che nel progetto di Torino sui goal dell'ONU Lavazza non venga mai rappresentato, al contrario si vuole veicolare un concetto, un contenuto valido e importante per tutta la comunità torinese, italiana, internazionale. La data invece che sancisce il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione di questo genere artistico a Milano è il 2007. Nel 2007 il padiglione d'arte contemporanea, il PAC, che è un museo civico, apre le porte alla street art inaugurando street art suite art, che è tutt'oggi la mostra più vista del padiglione d'arte contemporanea. Vanno a disporre sia graffiti writer sia street artist e questo genere entra veramente nella visione della città, anche nei circuiti istituzionali. L'ultima data importante per quello che riguarda la relazione tra l'urban arte e Milano è il 2015, quando esce la delibera sui centumuri liberi. Sono centumuri o di proprietà del comune o di FS che vengono dati alla città e quindi chiunque può andare a dipingere senza bisogno di autorizzazione. Molto recente è invece il lavoro che è stato fatto sempre dal comune di Milano in collaborazione con gli artisti per la realizzazione di una sorta di vademecum con relativa apertura di uno sportello comunale dedicato a questo genere artistico, più che altro per le pratiche, perché sappiamo che la street art entra sempre di più nel tessuto urbano e quindi sempre di più l'istituzione deve dare una risposta anche normativa agli artisti che vogliono produrre. Da quello che racconto sembra che ci sia un dialogo proficuo da entrambe le parti. In realtà se si è arrivati al 2020 al vademecum è perché prima c'è stata molta contrapposizione tra la comunità artistica da una parte e l'istituzione dall'altra. C'è da tenere in considerazione una cosa importante quando si parla di arte urbana nello spazio pubblico che è il pubblico, ossia la cittadinanza. Tutto quello che viene prodotto sperimentalmente da parte del pubblico o con un certo vincolo da parte del privato deve comunque tenere in considerazione i cittadini che sono i fruitori veri dell'opera. Quindi se nella produzione non c'è un occhio di riguardo per l'utente la produzione viene meno ed è quasi inutile far produrla e addirittura parlarne e questo è assolutamente necessario quando si parla di arte urbana. Credo che il caso dell'ex Isotta Fraschini sia nella relazione tra il privato e la comunità artistica un caso assolutamente unico. Nel caso specifico infatti c'è un privato che decide di mettere a disposizione degli spazi a una comunità artistica senza chiedere niente indietro alla comunità stessa. Gli artisti sono liberi di entrare nel sito e di fare entrare altri artisti a loro volta, amici, conoscenti che rientrano nello stesso gruppo di persone che si conoscono e che magari portano avanti una poetica comune. Quindi quello che si trova all'interno dell'ex Isotta Fraschini è questa condizione di perfetta relazione tra la proprietà e chi sulla proprietà va a operare in maniera autonoma e direi anche autogestita da un punto di vista della produzione. Non c'è una linea di produzione che venga imposta dal privato che dà a disposizione gli spazi.